A disposizione avete il fantastico e completo indice alfabetico attraverso il sito tinelli.eu Sempre a disposizione in bianco e nero il libro Il Risveglio a colori solo nella versione ebook Attraverso la playlist Curvatura ed Orizzonte trovate oltre 250 documentazioni che dimostrano l'assenza di curvatura Non limitatevi a guardarli ma cercate di andare personalmente a fare le vostre rilevazioni e scoprire che il teorema, non la teoria di Pitagora rivela la verità del nostro meraviglioso Regno Piano Riassumo il video dal canale di SpaceFull Trovate il link del video originale nella descrizione Posizione della fotocamera Obiettivo serbatoio d'acqua 42,6 metri sopra il lago Distanza fra la fotocamera e il serbatoio d'acqua 26 km Altezza della fotocamera 1,22 metri Distanza dell'obiettivo 26 km Il target, in questo caso il serbatoio, secondo il teorema di Pitagora dovrebbe essere nascosto di oltre 38 metri Questo sarebbe quello che ci si aspetta Ma si vede sia il serbatoio che tutta la silhouette degli alberi Cercate la verità Perché la verità vi rende liberi Libere Ma solo se l'accettate Telegram Canal 104 Plus Link in descrizione